Cantine, fabbriche di ceramica, aziende specializzate in alta tecnologia, luoghi del bello e non solo della produzione, perché l'Italia ha saputo resistere almeno in parte all'omologazione della grande industria, conservando la capacità creativa anche nei luoghi di lavoro. Dopo Mosca, San Pietroburgo e Abu Dhabi, le quattro stagioni architettura del Made in Italy, da Adriano Livetti alla Green Economy, approda al Margherita di Bari. La mostra, allestita per la prima volta nella Biennale di Architettura di Venezia nel 2012, è stata portata a Bari dalla sezione pugliese dell'Istituto Nazionale di Architettura, dal Club Cultura di Confindustria Bari e dal Lance. Tra i luoghi premiati a Venezia due anni fa c'era anche la Masseria Ciura nel Tarantino, una struttura del 600 rinnovata con un grande cubo di vetro in cui agricoltura e ospitalità si fondono. Avete coniugato quella che è una struttura del 600 con qualcosa di completamente nuovo, ce lo racconta? Questa integrazione fra il modello e l'antico ritengo che sia una cosa assolutamente molto bella. Si è fatto tutto questo e poi è stato fatto talmente bene che è stato premiato per valorizzare ancora di più la bellezza della struttura del 600. Per dare quindi valore aggiunto sia alla nascente struttura turistica che alla struttura agricola che continua ad operare perché produce frutta, produce arance.